Il popolo dell'urbe, stretto intorno al duce, celebra il quattordicesimo annuale della rivoluzione. L'omaggio all'antare della patria. L'omaggio all'antare della patria. L'omaggio all'antare della patria. Il fondatore dell'impero esalta lo spirito eroico e agonistico della nuova Italia, decorando dell'insegna al valore gli universitari reduci dall'Africa orientale e premiando i vincitori dei litoriali dell'anno 14. Dopo la consegna di una medaglia d'oro alla memoria, di sette medaglie d'argento, di cui cinque alla memoria, sei medaglie di bronzo e sette croci di guerra al valore militare, si susseguono sulla tribuna elittori del lavoro, della cultura, dell'arte e dello sport che ricevono dalle mani del duce l'ambito premio. L'acclamazione della folla immensa chiama il duce al balcone di Palazzo Venezia. Applausi 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 Grazie a tutti.